Il Napoli è una grande squadra, lo avevamo detto in più occasioni qui su Calciopazzo già da quest'estate, lo ha dimostrato in più occasioni anche andando a vincere a Milano, lo ha dimostrato maggiormente oggi battendo una signora squadra che è la Fiorentina che gli ha dato veramente filo da torcere, però il Napoli ha meritato questa vittoria e legittima queste sue pretese di puntare comunque al titolo. Ora bisognerà vedere settimana prossima se anche la Fiorentina può continuare a sognare, a sperare di puntare al titolo fino alla fine oppure dovrà in caso di sconfitta già abbandonare ogni sogno perché poi lo sappiamo bene che la Fiorentina non è una squadra costruita, strutturata per puntare al titolo, per cui poi ovviamente se ti ci ritrovi facendo belle prestazioni e quant'altro alla fine poi ci credi pure e diventi più forte di quello che sei o altrimenti ritorni insomma nelle zone che ti competono che sicuramente può puntare magari a una zona Champions ma non al titolo. Mentre il Napoli è indubbiamente più attrezzato, lo ha dimostrato oggi passando in vantaggio, poi ha subito il pareggio ed è lì che si vede la grande squadra, si è ributtata in avanti ed Higuain ha fatto esplodere il San Paolo. Per cui risultato corretto a mio parere ma questo non mortifica la Fiorentina che resta comunque una bellissima realtà.